grazie il pastore Petrone stava introducendo questa maratona sempre di predicazione di insegnamento sul fatto dell'importanza di evangelizzare e questo è assolutamente importante, lo dobbiamo fare ogni giorno ma quello che a volte succede e forse scoraggia molti è che non abbiamo quella incisività nell'annunciare Cristo vorremmo vedere miracoli, vorremmo vedere persone liberate dai demoni vorremmo vedere ciò che ha detto Gesù in Marco 16 e a volte non riusciamo a spiegarci come mai io annuncio il Vangelo, io predico Cristo ma non ci sono grandi risultati oggi voglio in un certo senso incoraggiare tanti che stanno cercando con sincerità di essere usati da Dio in maniera potente perché credo che a volte non si conosce alcune, come dire alcuni temi che sono fondamentali per permettere a Ciosi di crescere quindi la conoscenza che porta a una crescita oggi voglio parlarvi proprio della unzione partendo dall'unzione di Gesù perché noi dobbiamo capire che tutto ciò che facciamo ha bisogno dell'unzione dello Spirito Santo cioè noi abbiamo bisogno di capire come questa unzione che lo Spirito Santo ci dà possa crescere crescere giorno dopo giorno soprattutto capire come utilizzare questa unzione perché lo Spirito Santo ce la dà Dio ce la dà ma siamo noi che dobbiamo gestire maneggiare questa cosa che è di una preziosità incredibile saper utilizzare quello che Dio ci dà e soprattutto crescere in questa unzione come si cresce appunto di fede in fede di gloria in gloria di grazia in grazia così dovremo crescere l'unzione e pensate che la crescita dell'unzione dipende da noi perché una volta che Dio ci ha dato il Spirito Santo ci ha messo questa unzione di potenza siamo noi che adesso vedremo in questo tempo che abbiamo come farla crescere questa unzione andiamo a vedere subito quella che è stata l'unzione di Gesù che tutti dovremmo avere che tutti dobbiamo perseguire raggiungere conseguire perché questo darà ancora più forza più efficacia nell'annunciare il Vangelo di Gesù Cristo e non lasciarci nella frustrazione perché molti pensano e dicono ma qui vediamo che c'è scritto tu facevi miracoli dovunque andava la Chiesa Apostolica dovunque andava e si muoveva erano miracoli ma perché noi no invece noi sì noi sì possiamo fare quello che Gesù ha fatto ora c'è subito da capire come Gesù si muoveva nella sua unzione che gli è stata data appunto da Dio e soprattutto la capacità di Gesù di gestire questa unzione perché per maneggiare questa cosa che è appunto qualcosa di prezioso di sacro bisogna avere quella crescita conoscenza esperienza maturità fedeltà per capire quando agire e anche quando stare fermi perché l'unzione non è un giocattolo che quando voglio io la uso no 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 l'unzione è nettamente connessa con la voce e la guida dello Spirito di Dio Gesù non ha mai fatto niente di sua iniziativa la unzione di Gesù è quella che noi potremmo dire e vedremo esattamente cos'è questa unzione senza misura un'unzione illimitata diremmo noi come si usa oggi nel gergo telefonico una unzione illimitata che gli permetteva sempre di essere in connessione con lo Spirito Santo capire quando questa unzione stava uscendo adesso vediamo subito questo passaggio molto significativo di Marco capitolo 5 versetto 30 a un certo punto Gesù è circondato da questa folla e qualcuno con quella fame di Cristo quel desiderio di ricevere una guarigione cerca di toccare Gesù tocca il suo lembo leggiamo insieme questo passaggio di Marco 5 30 dove in realtà si capisce che c'è un'unzione che fluisce da Gesù e praticamente si muove attraverso di lui la regia sicuramente potrà darci questo versetto grazie Marco 5 30 non Pietro 2 Marco 5 30 questo non è il versetto in realtà cosa succede che in quel momento lo posso citare ah no no è sempre quello allora cosa succede che a un certo punto Gesù dice bravissimi grazie subito Gesù conscio della potenza che era emanata da lui attenzione conscio della potenza unzione che era emanata da lui voltatosi indietro verso la folla disse chi mi ha toccato le vestite grazie regia vedete come Gesù a un certo punto ha sentito che qualcosa usciva da lui perché Dio gli aveva fatto in modo che questa unzione potesse subito raggiungere questa donna perché Dio aveva visto lo Spirito Santo aveva visto questa donna che aveva bisogno di guarigione e ha permesso ha lasciato che da Gesù stesso potesse influire questa unzione quindi questa unzione guarisce questa donna dal flusso di sangue quindi vedete Gesù capisce quando c'è unzione questo è anche importante per noi chi predica chi evangelizza ma qualsiasi credente ha bisogno di capire quando c'è unzione dentro quando c'è unzione per operare quando c'è unzione per annunciare per pregare per gli ammalati per liberare è la sensibilità a questa unzione che ci aiuta tantissimo Gesù stesso si è presentato nel suo ministerio all'inizio e andremo a vedere adesso di leggere Luca capitolo 4 e 718 che dice l'unzione dello Spirito Santo è su di me vedete non si possono fare le cose senza unzione lo Spirito del Signore è sopra di me perciò mi ha unto guardate cosa dice mi ha unto per evangelizzare i poveri mi ha inviato per annunciare la liberazione ai prigionieri il recupero della vista ai ciechi per rimettere libertà agli oppressi quindi è l'unzione prima si parlava con il carissimo pastore Petrone della importanza dell'evangelizzazione noi non dobbiamo fermarci ma dobbiamo dire Signore dammi più unzione voglio crescere l'unzione perché io voglio evangelizzare noi a volte e questo la frustrazione lo scoraggiamento come vogliamo chiamare che ci sembra evangelizziamo evangelizziamo ma alla fine risultati ma forse non è che avremo bisogno di unzione qui dice che Gesù fu unto per evangelizzare ora non è che io devo aspettare perché l'unzione è già dentro di noi è già viene data attraverso lo Spirito Santo guardate tutti i credenti la bella notizia è questa che tutti i credenti hanno l'unzione dello Spirito di Dio ora che cosa voglio voglio far intendere che l'unzione che viene data sui credenti nati nuovo battezzati di Spirito Santo è un'unzione sentite bene senza misura quindi vuol dire che ci è stato dato tutto il potenziale per poter manifestare il potere di Dio la grazia di Dio la gloria di Dio in quello che facciamo ma questa unzione senza misura che viene depositata dentro di noi viene in un certo senso aperta man mano che cresciamo nella conoscenza nell'esperienza nell'essere fedeli al Signore immaginate se lo Spirito Santo permettesse a uno appena nato di nuovo nella fede anche seppur battezzato in Spirito Santo dargli un'unzione senza misura sarebbe davvero una tragedia invece noi dobbiamo capire che man mano che andiamo avanti sperimentiamo diciamo l'amore di Dio la grazia di Dio la conoscenza affrontiamo tanti processi nella vita perché l'unzione viene fuori anche attraverso tanti processi di vita vi ricordate Davide Davide ebbe tre unzioni quindi in base a quelli che sono stati i suoi processi se andiamo a leggere Ezechiele là ci sono dei passaggi che fanno intendere che man mano che andiamo avanti ma con un desiderio forte con la voglia di crescere in questa unzione questa unzione diventerà sempre di più sempre di più forte incisiva potente diremmo noi fino ad arrivare a essere senza misura guardate c'è un passaggio che ci incoraggia di questo fatto perché non è una falsità non è un inganno è una verità e la dobbiamo prendere perché ce l'ha detta Gesù Giovanni capitolo 14 versetto 12 qui Gesù famosa frase di Gesù ci dice che noi possiamo fare le stesse cose che ha fatto lui anche se tu dici adesso io non ha importanza tu devi iniziare a fare le cose lasciandoti guidare lo Spirito Santo in verità in verità vi dico che chi crede in me ecco quindi la fede farà che gli le opere che faccio io anzi ne farà di maggiori perché io me ne vado al padre io credo a questa parola quanti di voi credono a questa parola alzate la vostra mano io credo a fede che questa unzione di Dio crescerà giorno dopo giorno perché è una unzione senza misura immaginate man mano che si va avanti se centinaia di credenti facessero un percorso davvero di impegno di fedeltà di zelo di conoscenza nella vita sempre di più ascoltando la voce di Dio lasciandosi guidare dello Spirito Santo perché guardate è possibile ci sono oggi molti uomini di Dio a livello internazionale che davvero agiscono con un livello di unzione senza misura non è un traguardo impossibile e che molti lo raggiungono altri tanti no perché perché l'unzione per crescere e arrivare dipende da noi perché se io non sono sensibile non imparo a crescere in questa unzione se non 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 accompagno questa unzione con il mio impegno la mia consacrazione la mia devozione la mia resa totale sapete che succede alla fine che dagli oggi dagli domani questa unzione viene ritirata vi ricordate una certa storia di un certo sansore era unto da Dio con una forza soprannaturale ma poi il giorno in cui lui scese a compromessi non si arrendeva più al Signore non faceva più la volontà di Dio lui dice il testo è un testo incredibile quello non si era accorto che il Signore si era ritirato da lui molti credenti hanno perso l'unzione e non se ne sono resi conto e non sono più efficaci questa è una domanda importante di mettere davanti a Dio Signore non è che io ho perso l'unzione perché invece di dire dare la colpa a Dio guardiamo in noi stessi perché vi sto ripetendo l'unzione di crescita dipende da noi perché l'unzione è dentro di noi non deve scendere dall'alto l'unzione è già dentro di noi quindi viene depositata senza misura dentro di noi questa è la bella notizia per fare le opere di Gesù no? però come sapete benissimo nella vita ci sono dei test ci sono delle prove ci sono esperienze che devono portarci a crescere a maturare a diventare uomini fatti completi che sappiano maneggiare questa unzione c'è un esempio per esempio di Paolo ai Corenzi dove parlava molto di questa chiesa che aveva immaginato questa chiesa di Corinto era davvero carismatica perché i doni dello spirito santo che vengono elencati erano all'ordine del giorno cioè utilizzavano però che cosa ha dovuto dire Paolo? però attenzione questi doni sono importanti però devono essere accompagnati dall'amore perché ha detto questo? perché nel capitolo 13 spende un capitolo intero sull'amore perché in realtà questi corinti man mano che andavano a a a a soffrire di questi doni purtroppo c'erano anche atteggiamenti carnali a volte ecco qualcuno pensa io ho l'unzione si sente superiore agli altri qui nessuno deve sentirsi una spanna in più perché qui siamo tutti strumenti nelle mani di Dio e anzi dobbiamo imparare ad essere sensibili alla voce di Dio e agire quando Dio vuole non è che io ho l'unzione dove vado e faccio voglio fare mirato non è così Gesù si muoveva nell'unzione senza misura ma sempre sotto la guida la voce di suo padre diceva io vedo mio padre e le faccio le opere quindi lui non faceva le cose tanto per fare tanto c'è l'unzione sui poteri no era sempre in connessione in sintonia con lo Spirito Santo quindi l'operazione di crescita di unzione di perfezione che è un dono che Dio ci ha dato dipende da noi per poterlo farlo crescere quindi l'unzione in un certo senso può essere misurata come da dire nel senso che va a gradi a misura quindi se uno cresce nella fede cresce nella conoscenza di Dio cresce nella grazia di Dio è logico e l'unzione incomincia a salire 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 perché Dio ti userà sempre di più in maniera esponenziale aperta questo è parte della crescita del cristiano ecco perché ci sono diversi gradi di unzione innanzitutto diciamo che questa unzione di Dio deve essere assolutamente sostenuta da quella che è la volontà di Dio noi non possiamo agire mai e poi mai senza il volere di Dio Dio mi può dare dei carismi dello spirito Dio mi ha dato un ufficio ministeriale Dio mi ha mi ha dato la parte di unzione ma io tutto questo non posso utilizzarlo senza la sua volontà cioè questo lo voglio specificare perché nessuno possa pensare che è una cosa che uno gestisce le cose di Dio si gestiscono insieme allo spirito santo non si gestiscono per conto nostro vengono date a noi ma devono essere come dire avere questa sinergia con lo spirito santo quindi quando sto in una chiesa o nella mia chiesa o comunque parte diciamo dove mi trovo a dispensare la parola di Dio devo avvertire se è la volontà di Dio che agisco in una certa maniera che unzione si sta muovendo in modo che questa unzione che viene appunto dalla volontà di Dio io posso agire e dire ok è volontà di Dio che oggi accada questo che si faccia questo che ci sia unzione di diciamo di preghiera che c'è unzione nella guarigione in modo che insomma alla fine ognuno di noi come dire riesce a capire è sensibile quando arriva l'unzione ecco è l'unzione qui dobbiamo pregare chiedere al Signore che possa agire nei nostri cuori quindi è un'unzione che ci aiuterà man mano a capire i momenti spirituali una cosa importante anche vi sto dando diciamo giusto dei raguagli è la preparazione ora non soltanto agire alla volontà di Dio ma credo che anche questo messaggio che io sto facendo per voi non è un messaggio che può essere fatto come fosse una pizza l'annuncio del Vangelo non è fare le pizze o come si dice a bar le popizze che prendono un po' di mano no ogni volta che noi dispensiamo la parola di Dio ogni volta che annunciamo il Vangelo c'è bisogno di preparazione la preparazione aiuta l'unzione quando ci dobbiamo muovere nello spirito nell'annuncio del Vangelo della parola di Dio è necessario essere preparati vivere una vita di preparazione secondo me e anche saper rinunciare a se stessi perché tutti vorrebbero avere questa unzione di potenza ma quanti sono disposti a rinunciare a se stessi quanti siano disposti a vivere una vita di sottomissione totale a Dio alla sua parola al suo spirito quanto di noi sono disposti a fare sacrifici nella volontà di Dio perché questa unzione si possa dispensare non mi dimenticate non ci dimentichiamo che Gesù quando ebbe fame mandò i suoi discepoli che non vedevano loro di andarsi a prendere il cibo lui rimasse lì per dispensare una parola a una donna samaritana e a quella rinuncia di un cibo di un pranzo lui ha portato il Vangelo in questa donna e questa donna a una città intera vedete essere disposti a rinunciare per Cristo è lì che l'unzione si amplifica sempre di più e diventa potente forte c'è bisogno anche assolutamente anzi io voglio dire questo leggiamo Giovanni 17 19 grazie per il vostro supporto Giovanni 17 19 dove Gesù stesso parla di santificazione guardate per loro io santifico me stesso affinché anch'essi siano santificati nella verità santificati che vuol dire vuol dire separarsi dal mondo dal peccato cioè se tu vuoi essere una persona di unzione e beh allora fatti i due conti cioè non puoi vivere una vita di compromesso devi dedicare del tempo al Signore imparare a sentire la sua voce fare la sua volontà studiare la parola di Dio pregare digiunare se necessario ecco una santificazione e la santificazione dice senza di quella nessuno vedrà il Signore ma io credo senza santificazione non si può far crescere l'unzione nella nostra vita questa è la cosa importante c'è bisogno per manifestare l'unzione anche di un'aspettativa nel senso che non solo io posso avere un'unzione immaginate ognuno di voi ha un'unzione potente di Dio però a un certo punto arrivo in un posto dove sembra che c'è unzione però però non non funziona c'è qualcosa che non va e guardate un po' Matteo 13 58 Matteo 13 58 purtroppo vedete anche Gesù stesso con tutta la sua forza la sua potenza dice e lì a causa della loro incredulità non fece molte opere potenti è incredibile pensate cioè nonostante parliamo di Cristo unzione senza misura potenza di fare qualsiasi cosa eppure l'aspettativa era molto bassa anzi inesistente non credevano a questo ministerio quindi vedete molte volte anche questa è un'altra cosa un tassello da imparare ci può essere unzione ma a volte non c'è aspettativa c'è incredulità e lì tu e voglia fare i salti mortali se non c'è risposta fermati pazienza vuol dire che insomma non è stato possibile agire perché lì dove è veramente così non è che uno dice no no la gente non ha fede ci sono casi in cui le persone non hanno fede sono incredule e Dio non può operare ma invece ci sono quelle altre volte spero sempre di più dove la gente viene in chiesa va agli incontri o ascolta una trasmissione con quella aspettativa di ricevere lì che l'unzione che abbiamo dentro di noi guardate la convinzione il binomio bellissimo è questo l'unzione dentro di noi che cresce ogni giorno e si manifesta l'aspettativa di fede delle persone questa è nitroglicerina è esplosiva Matteo no Luca 5 17 grazie Luca 5 17 qui ci dice che c'era proprio gente che ecco un giorno Gesù stava insegnando e c'erano lì seduti dei farisei dei dottori della legge venuti da tutti i villaggi della Galilea della Giudea e della Gerusalemme pensate un po' non so quanta gente sta lì è la potenza questo mi incanta questo versetto è la potenza del Signore era con lui per compiere guarigioni alleluia meraviglioso vedete quando noi abbiamo questa parola di Dio che ci conforta e vedete tanta gente io voglio dire questo forse evidentemente la la differenza che noi dovremmo cercare di capire è sicuramente l'unzione perché io molto tempo mi sono chiesto Signore vorrei che ogni incontro fosse un incontro con una grande aspettativa voglio crescere nella tua unzione questa è la mia preghiera al Signore voglio che sia io che cresca l'unzione ma anche chi verrà ad ascoltare un messaggio non ritenga che sia un messaggio di serie A serie B sei settimana o la domenica a volte le persone vanno lì a catalogare il Signore è il Signore di ogni giorno quindi in realtà non ci sarà mai come dire questo tipo di 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 in ogni incontro in ogni trasmissione in ogni evangelizzazione ricevere questa unzione potente nella nostra vita perché perché quando noi siamo assolutamente no presi a questa unzione noi possiamo davvero vedere miracoli potenti nel nome di Gesù quella donna quella donna che si aggrappò a tutto pur di ricevere quella guarigione che meraviglia di incrocio unzione di Gesù rilasciata a una donna che aveva fede per essere guarita salvata miracolata e e credo che poi ci sono puoi dire delle aspettative io voglio non so se è possibile regia Matteo 23 no Luca 5 17 l'abbiamo letto sì ecco ho finito i versetti ecco sì ecco vedete è la potenza io voglio voglio che tutti voi amici credenti pastori colleghi la potenza del Signore era con lui per compiere guarigioni io credo che è questo quello di cui abbiamo bisogno oggi mi è piaciuto davvero lo ribadisco questo concetto noi abbiamo un compito quello di evangelizzare di acquistare questi guardate acquistando il Nuovo Testamento prendendo questa Bibbia e andando a a dire Signore ungi me il Signore non ungi la Bibbia è già la parola di Dio è unta ungi me Signore perché quando andrò a dispensare questa parola ci sia un'unzione potente Gesù ha detto voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi quindi vuol dire che la potenza è dentro di noi l'unzione è dentro di noi i carichi la voce di Dio a fare la sua volontà essere sottomessi la mia preghiera un giorno è dire al Signore Signore io mi umilio mi sottometto alla tua autorità al tuo spirito alla tua parola ogni giorno voglio camminare umilmente nella tua presenza voglio praticare la giustizia amare la misericordia perché l'unzione di Dio sia su di noi vedete quando noi ci avviciniamo al Signore il Signore si avvicina a noi io credo moltissimo che la Chiesa non solo in Italia parliamo a delle nazioni sto girando in altre nazioni Francia Spagna Polonia in Europa con altri fratelli c'è sempre fame di Dio ci sono persone che arrivano agli incontri o per strada incontri per strada nei negozi con una fame di Dio credo che sia arrivato un momento in cui la Chiesa si risvegli in che senso non che deve scendere un posto dall'altro credetemi lo Spirito Santo è già dentro di noi e che questo Spirito Dio si apra sempre di più che questa unzione ci vuole unzione unzione che deve crescere e tutti quanti avere un obiettivo Signore fa che io possa arrivare alla Tua unzione a una unzione senza misura questo è il nostro target il nostro nostra visione il nostro obiettivo e se dici ma io che cosa devo fare Signore insegnami guidami come posso arrivare a quell'unzione Dio ci parlerà ci aiuterà non prendiamo sotto gamba niente cioè dalla riunione semplice di preghiera dico questo in Chiesa a un incontro con una persona camminiamo sotto questa unzione perché l'unzione fa la differenza ci sono ministeri che hanno dei titoli delle posizioni ma forse non c'è unzione perché l'unzione è quando noi manifestiamo ciò che Dio ha messo dentro di noi l'unzione è diversa dalla gloria vi faccio questa distensione perché la gloria è tutto ciò che fa Dio lui da solo noi non c'entriamo niente ricordate i passaggi nell'antico estramento negli atti di apostoli la gloria di Dio è che lui viene e fa tutto lui noi stiamo lì a ricevere e a prendere ma l'unzione invece dipende da noi la volta che è stata depositata dentro di noi siamo noi a farla crescere non so se mi sto spiegando la differenza tra l'unzione e gloria che l'unzione che viene data a noi dallo spirito deve crescere siamo noi a impegnarci a farla crescere ma la gloria è qualcosa che appartiene al Signore vedete Dio farà nella storia della Chiesa per finire questo messaggio Dio farà sempre questa differenza e lo mostrerà nel tempo è una storia ormai che si ripete c'è un momento in cui Dio ci dice fai crescere la tua unzione agisci nella mia unzione fluisci nella mia unzione sii sensibile a mia unzione ma arriverà il giorno in cui Dio verrà con la sua gloria perché quando vede un'unzione potente senza misura ecco allora posso dirvi questo che quando c'è un'unzione senza misura Cristo è esaltato la gloria di Cristo viene giù la gloria di Dio qual è? Cristo quando si arriva un'unzione senza misura è la gloria di Dio che comincia a entrare in sinergia con l'unzione di un uomo di Dio e allora lì tu rimani taschiato fermo quando c'è la gloria di Dio nessuno si muove tutti rimaniamo bloccati perché è Dio che fa ogni cosa che è bello pensare a queste cose credere in questo e cercare queste cose io prego il Signore in questo momento nel nome di Gesù Padre io ti chiedo che questa unzione che tu hai depositato nella nostra vita possa crescere a dismisura perché l'hai messa dentro di noi Signore in ogni fratello in ogni sorella nella tua chiesa qui in Italia Signore vogliamo vedere una chiesa in Italia in ogni nazione che manifesti questa unzione senza misura una unzione di spirito senza misura nella pienezza dello Spirito Santo Padre fa che ogni di noi possa oggi essere risvegliato nel camminare in questa crescita in questa unzione potente Signore perché il tuo spirito possa agire ora in questo istante Signore vogliamo arrivare a questo traguardo che ogni volta che apriremo bocca ci sarà un messaggio di potenza di forza Signore o di manifestazione della tua grazia o una manifestazione angelica Signore perché noi possiamo dire come dici tu opere maggiori e oggi Signore io dichiaro in questa trasmissione che ci sia un'unzione di potenza per compiere guarigioni liberazioni salvezza che ogni messaggio che verrà predicato sia predicato nell'unzione potente dello Spirito tuo Santo per generare liberazione salvezza guarigione e prosperità unzione sulla tua Chiesa in Italia in Europa Signore e all'estero camminando sotto la tua unzione giorno dopo giorno perché la tua gloria possa inondare i nostri cuori avvolgerci coinvolgerci Signore per sentire il tuo tua presenza Signore che la tua unzione ogni giorno cresca sempre di più nella vita del mio fratello pastore Petrono Signore che tu lo possa guidare Signore che questa unzione cresca sempre di più cresca sempre di più per manifestare la tua potenza la tua gloria attraverso questa emittente televisiva e così per ogni mio fratello te lo chiedo papà te lo chiedo padre nel nome di Gesù nel nome di Gesù nel nome di Gesù amén grazie a tutti 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 grazie a tutti